il gatto invece non vuole funzionare molto bene ho rallentato allora lezione 14 sempre scigoto praticamente scigoto parte 2 a voto allora ho freddo i piedoni ho bisogno della mia super ciabatta e voilà il ciabattone si risolve sempre tutto allora lavoro abbiamo Soshiki buongiorno Alex buongiorno Massi Soshiki Soshiki che è lo stesso di Cishiki che io leggo sempre sbagliato no Gishiki ora non me lo ricordo più Gishiki no è Cishiki sì è Cishiki allora che conoscenza non lo sbaglio sempre è organizzazione buongiorno Alex Alex e Mako e sempre e sempre Yogo Zai Mas dalla regia allora questo è scigoto parte 2 ah ho trovato un altro l'ho trovato mi ha consigliato questo sito qua il ragazzo che fa le traduzioni per panini che è un dizionario che dà più significati che è utile se è usatelo anche voi e puoi anche scrivere i kanji c'è scritto draw e puoi disegnarli ottimo sì è comodissimo infatti mi dà più significati perché molte volte il kanji ha più significati e qua dandomene solo uno mi confondo perché naturalmente mi dà quello sbagliato nel libro invece questo qua mi aiuta un po' di più almeno ho provato qualche parola mi sembra più meglio come si dice in italia allora andiamo avanti non trovo più la pagina qua e questo qua era Soshiki è organizzazione organizzazione Soshiki ecco lo usiamo subito Soshiki è anche gruppo societano e roba del genere organizzazione formazione struttura costituzione sistema anche significa anche un sacco di altra roba texture significa vedi mi mette tutte le robe bene bene mi piace mi piace andiamo avanti poi abbiamo Joshi che lo sappiamo già che è superiore Joshi che è superiore a lavoro sempre stiamo parlando Joshi è superiore poi abbiamo Meue che è il testa di capo no Joshi ma scusa Joshi perché mi mette capo Joshi non è il superiore mo meue mi dice che è superiore tutte e due è superiore basta Joshi non è il capo in teoria o no confondendo bene diciamo bene sono tutte e due il superiore queste qua allora buca è quello che è sotto buca subordinato adesso lo vediamo nel dizionario fantastico io questo qua ho sempre detto superiore sì superiore anche significa anche capo ma è superiore la persona sopra ok quindi ok il surgato di ai gioro oppuro su lo conosci questo sito per scrivere i nomi www.kanjizone.com kanjizone.com no adesso me lo lo controllo eh ma quello lì che ti ho vi ho scritto io quello il gisho puoi scrivere anche i kanji se schiacci su draw ti puoi disegnare i kanji no non lo conosco questo no non lo conosco sì però l'altro che ti ho dato io è più completo quello che ti ho dato io è più completo è proprio il dizionario di giapponese e lo puoi disegnare col mouse il kanji però te ne dà una marea devi poi vedere quello giusto è più completo diciamo allora Dorio è il che si chiama collega di lavoro Dorio così Dorio collega di lavoro poi abbiamo schusse non lo so nel senso non l'ho mai usato in vita mia schusse qua sì schusse su draw e avere successo al lavoro ok quando una parola non la so non vorrei che ve la traduco sbagliata perché il libro me la traduce col Q allora successo nella vita però in questo caso è successo al lavoro poi ti dà anche tutti gli altri kanji cioè tutte le altre parole che potete trovare con quel kanji che mi piace me gusta la ragusta ok comunque giusto shoshin e promozione shoshin naturalmente poi shing shing è nuovo new è entrato shing new sha in dovrebbe essere è il nuovo cioè l'ultimo cioè l'ultimo arrivato sarebbe o il nuovo il nuovo come si chiama il nuovo impiegato allora shing è nuovo new è entrato sha è kai sha e in persona l'ultimo arrivato il novizio come cacchio si chiama l'ultimo appena appena entra no non mi posso dirlo in italiano fa schifo nuovo nuovo impiegato nuovo impiegato ne ho assunto bravo mi piaci bravo così si fa dimmi le parole in italiano che a me non vengono cioè so il significato ma non mi viene la parola in italiano poi abbiamo se chi nisha che è la persona che è responsabile se chi nisha che se succede qualcosa la colpa è sempre di se chi nisha lo so perché io ero un se chi nisha lo prendiamo sempre il culo anche se sbagliavano dagli altri era sempre colpa mia responsabile responsabile poi abbiamo giugio in è l'impiegato normale giugio no quindi giugio così no è l'altro vedi che era l'altro era giusto quello giugio in notate in impiegato cioè un lavoratore o lavoratore lavora ok no scrivo le ultime due parole così abbiamo tutto può essere tradotto come capo progetto lo controlliamo comunque se chi nisha è responsabilità e questo qua è persona cioè colui che ha la responsabilità comunque lo controlliamo pam 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 te chi nisha persona in carico persona responsabile responsabilità il supervisore manager forse piace questo perché ci è un'altra parola capo progetto bisogna vedere qual è come è inteso che potrebbe essere caccio bucio bucio ci sono un sacco di capi diversi caccio cioè dipende dalla situazione però è bello questo qua perché ti dà proprio i kanji anche delle persone cioè il kanji cioè ti separa la parola e ti dice kanji per kanji ecco le pronunce mi gusta sempre di più allora niente se no mi perdo a guardare il dizionario non esco non esco più vivo scriviamo queste due parole anzi no abbiamo ancora 1 2 3 4 5 6 vai scrivo queste sei parole così poi le scriviamo tutte allora questo qua era la parola di prima che era Soshiki 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 aspetta te lo cerco nell'altro dizionario quello che mi fa da inglese su weblio metti puoi mettere anche l'inglese project manager vediamo se esce qualcosa dal giapponese all'inglese dall'inglese al giapponese vediamo cosa mi mette no mi esce solo project manager me lo scrive in lo scrive in come si chiama in katakana mi scrive proprio project manager me lo scrive in katakana perché poi dipende dalla situazione il problema è quello cioè tipo io che ero responsabile nel negozio ero tipo non è che se mi chiamavo tencio che significa che sei il responsabile del negozio invece sciaccio è il capo bucio è il direttore cioè ci sono vari modi di dire dipende dal posto dove sei cambia allora poi abbiamo Soshiki Soshiki l'avevo scritto prima infatti mi è uscito in automatico Soshiki dove cacchio è me lo sono perso no ho saltato un pezzo ok niente Soshiki la dopo Kaisha è azienda Kaisha no Tai Tai Sei Tai è il sistema dell'azienda sistema aziendale dovrebbe essere Kaisha no Tai Sei Tai sei tu Gio non mi ricordavo tu studiavi già il giapponese non mi ricordo più Kaisha Kaisha no Tai è sistema aziendale sistema cerco Tai giusto per sport si sistema struttura 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 aziendale stabilimento ok ci piace andiamo avanti così controllo anche se c'è un dubbio controllo subito Waga Waga è la mia azienda la nostra azienda Waga 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 l'azienda dove lavori la tua azienda cioè la mia azienda la nostra azienda un altro modo per dire la nostra azienda è Tosha 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 Aiii Tosha sempre la nostra poi è Sutafu e non so cosa significa non riesco a tradurlo Sutafu Sutafu e staff in poi c'è Shokuba e posto di lavoro Shokuba e l'ultima parola è Office Office naturalmente con una F sola perché vuole confonderci Office è ufficio all'ascigotto è giusto per sport allora foglio foglio dove sei quaderno dove l'ho messo ditemi se salta la voce la bevaria perché ho un po' di problemi tecnici tattici ultimamente la live su YouTube non sta andando lo stesso gli allungamenti a caso in katakana eh sì gli allungamenti a caso è tipo qua Office dovrebbe essere doppia F e dovrebbe essere ilunga ma non è perché lo scrivono come lo pronunciano loro quindi tu devi capire come pronunciano i giapponesi quella parola cioè non come tu la pronunci in inglese giusta e lì è il problema devi entrare nella testa di quello che ha inventato questa parola abbiamo un altro problema che io ho fatto partire la live su YouTube e non va anche se ho cambiato le le robe adesso fammi controllare su YouTube secondo scusate abbiamo un problema non è un problema però c'è una pina pava su YouTube hanno cambiato le chiavi e tutto ho messo la nuova chiave ah no sta andando però non c'è qua la live c'è cacchio però qua no sul programma non va provo a sconnettermi e disconnettermi ho sconnetto secondo eh no però mi scollego da YouTube e rientro su YouTube vediamo se la riprende I agree che hanno cambiato il sistema no ho sbagliato non mi scrive nessuno ma ammetti che mi scrive qualcuno non lo vedo già poi ho tante persone che mi cagano quindi ah adesso è collegato invece c'era una persona che sta guardando sono io lol così adesso torna a zero ok adesso lo vedo siamo lì allora poi 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 o sacana no ko aoi umi cana gaiate chita allora shigoto come sappiamo tutti è lavoro beh anche pizza loro dicono pizza con una z sola quindi è tutto un po' confuso cioè tu devi impararlo come lo dicono loro non come l'inglese ma come faccio a vedere la live in YouTube in che senso come faccio a vederla live in YouTube eh su YouTube è su MacoRx non è su Rx ma sull'altro canale l'altro giorno si è entrato adesso si vede c'è c'è allora shigoto allora lezione 14 parole ieri poi ho dovuto caricare 4 live perché hanno cambiato praticamente il sistema delle live io facevo la live ma non me le salvavo e quindi ho dovuto caricarli a mano per fortuna ho le copie e per fortuna nel senso non le tengo tutte però gli ultimi gli ultimi diciamo gli ultimi dieci ce li ho e le ho recuperate così ero sul canale sbagliato eri sul canale magari quello giappo su quel canale giappo non faccio le live in italiano è tutto in giappone cioè ho preferito dividerle perché poi non si capiva niente esattamente esattamente shigoto lavoro lo scrivo giusto per sport perché noi siamo bravi lo scriviamo soshiki allora questo qua è quello che trovate anche dopo classe tipo la classe terza A questo qua è gumi ok e questo qua invece è quello di esperienza insieme fa organizzazione perché non si sa allora soshiki dirai minchia che bravo che sei la prossima volta che lo vedo non lo riconosco perché sono stronzo soshiki 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 poi abbiamo joshi che può essere sia capo ma anche superiore però io dico sempre superiore perché il capo si dice shacho ci sono un sacco di altri modi e poi vi confondete fate come vi consiglio io se no vi arrangiate poi quando vi confondete joshi poi abbiamo me ue che è sempre come joshi me ue me ue e ue lo conosci anche tu anche quello di joshi è sempre quello di ue che si pronuncia in un altro modo e invece buca e sta se vedete è quello di sotto buca e quindi sapete che sta si pronuncia anche k poi abbiamo dorio questo qua invece è il kanji di uguale do rio invece rio è un bello tosto e non me lo ricordo mai perché l'avrò scritto due volte in tutta la mia vita bello tosto nel senso è difficile ricordare perché più volte lo scrivi e più te lo ricordi ma visto che l'ho scritto poche volte dorio poi abbiamo questo è nuovo shusse il kanji di uscire e l'altro è quello di mondo però significa successo perché non lo so e quindi non mi verrà mai in mente perché se fai il ragionamento dei significati dei kanji non ti viene in mente questo qua è uno su non è una u successo dove successo shoshin è promuovere quindi shoshin facciamo due salti shoshin promuovere poi abbiamo shinshine shin è nuovo new è entrare il kanji di entrare questo qua non è persona attenzione che questo qua è il kanji di entrare ha la parte sopra diversa questo qua è azienda e l'ultimo è persona l'ultima persona è entrata cioè la nuova persona è entrata in azienda che è il neoassunto come mi hanno suggerito dalla regia shin new poi abbiamo sekinisha sekinisha ok sekinisha sekinisha esha è quello di mono o persona sekinisha è quella persona che ha la responsabilità sekinisha non sto scrivendo sopra perché sono tutte parole che conosco tranne promuovere successo che non lo sapevo poi abbiamo dove cacchio è jugyo in questa è la soma non sapevo che si scriveva così e dite ma che cazzo stai cantando è la canzone di Capitan Arlock state attenti che mi offendo e vi spacco la faccia allora giugyo in se non vi fidate cercate la canzone di Capitan Arlock cantata dai Ciro Mizuki che è il papà di Mazinga Z giugyo in cioè il papà quello che canta Mazinga Z giugyo in questa qua non sapevo il kanji cioè non sapevo non lo so Kai'Sha no Tai Sei Tai è quello di corpo e l'altro invece è tipo quello di produzione ma è diverso è simile a quello di produzione ma gli manca un pezzo manca la parte sotto penso fai vedere quella parte sopra di Sei ogni tanto mi vengono questi barlumidi l'ho già visto allora Waga no Kai'Sha no Tai Sei Kai'Sha no Tai poi Wagasha sembra una parolaccia invece significa la mia azienda cioè l'azienda dove lavoro Wagasha l'ho scritto pure male perché sono stronzo Wagasha poi abbiamo Tosha è sempre la mia azienda Tosha poi abbiamo Staff che non lo scrivo piuttosto mi taglio un braccio chi è che ride chi è che ribelli quegli emoticon io non posso mettere emoticon perché non ho amici ne ho messo solo uno Shoku mi dispiace mi dispiace devo andare non ho scritto il kanji perché sono stronzo lo scrivo di fianco Shoku mi dispiace che non potete sentire le canzoni con me prima quando facevo le lezioni c'erano le canzoni dei cartoni animati adesso non si può dire quindi niente Shokuba è posto di lavoro è office non lo scrivo mi rifiuto è ufficio poi abbiamo le altre parole sono di lavoro meeting cosa sarà meeting che io tipo meeting non l'avrei messo sono alcune di Shibuya che io sono anche tu con Shibuya eh dai ce l'avete su cosa qua meeting a me non piace quella lì meet cioè non è il mio genere cioè non è che non mi piace non è il mio genere preferisco Nakajima Mika quando era giovane mi hanno regalato l'addonamento è perché sei un fortunello a me non mi regala mai un cazzo nessuno meeting mi ai giapponesi piace sempre fare meeting uchi awase è sempre meeting detto in giapponese pre meeting o riunione scriviamolo in italiano se no vabbè mi confondo vedete che cazzo è meeting riunione e vi dico eh c'è ragione uchi awase ti avevo chiesto Joe ma anche tu studiavi il giapponese non mi ricordo più mi sembra che mi avevi detto che studiavi il giapponese mi sono perso il nome della tua preferita lo ripeti e lo scrivo però è devi cercarla quando faceva Nana Nakajima Mika adesso si è rifatta è orribile miso è sbaglio o errore chi è la colpa è sempre la colpa tua perché sei il sekinisha io ho studiato in giappone ho l'università ah bene allora sei più di me ai dia io avevo aiutato un ragazzo per dare gli esami alla Bocconi e gli ho fatto studiare il libro quello che sto insegnando ai principianti in in due mesi l'abbiamo e fatto tre allora hai fatto anche tu questo dove cazzo è aspetta hai fatto questo perché questo qua lo fanno in tre anni alla Bocconi è il giapponese per i principianti io questo qua glielo ho spiegato praticamente in due mesi poi ha dato l'esame l'hanno promosso no ma l'ho visto non è questo ahi dia beh quindi puoi studiare con me volendo giusto ahi dia e qua per scriverla di piccolo ho fatto lì ahi delia ho scritto an an o dasu vabbè idea poi abbiamo an o dasu che sempre ti viene in mente una cosa fantastica an o dasu io avevo un testo universitario del professore ti parlo di 20 anni fa eh ok il mio libro è del 93 quindi non si scherza quel libro lì è del 93 infatti l'altro giorno abbiamo tirato fuori una parola tipo type typewriter che ormai non si usa più la macchina da scrivere povero typewriter c'è anche una frase tipo che sei in giro con il Walkman che ormai non si usa più da una vita tristezza in my heart eh andan su ru è tirare fuori un'idea tirare fuori una idea quando tutto era meglio ma adesso vabbè sono tutti con sto cazzo di telefonino in mano eh Teian è dare un suggerimento Teian è suggerire suggerimento e Teian su ru è suggerire Teian e suggerimento Marco chiudi la porta ti lancio la la lavatrice fuori dalla finestra fin adesso vola via la lavatrice piano progetto è bello che l'ho comprata pure io al posto della play per farmi rovinare tutte le live Kikaku piano o progetto la sentite che fischia va a 1200 giri mica cazzo poi abbiamo Kento Kento Suru è considerare si sta decollando si si è come la play 4 quando giochi ai giochi ai giochi seri fa lo stesso rumore però il problema è che in bagno è chiusa hai capito è chiusa dentro il bagno ma fa un bordello atroce e naturalmente la deve far andare mentre io sono in live perché se no non è in bolla ma quale bolla è appoggiata per terra e basta allora Kento Suru considerare ma come Spiderman sulla lavatrice esatto dai quando fa la come si chiama la come si chiama era giusto quello la centrifuga che fa sto rumore qua centrifuga esatto bravi che mi aiutate a dire le parole in italiano perché a me non vengono allora questa qua dovrebbe considerazione o scrutamento ma visto che mi fa schifo lo cerchiamo sul mio fantastico dizionario nuovo il G-Show tra parentesi G-Show significa dizionario in giapponese Kento considerazione esaminare investigazione studiare discussione analisi review cioè significa mille parole in base a come vi gira il culo quindi direi boh discussione analisi no perché c'è una considerazione mettiamo considerazione perché poi c'è un'altra parola per dire analisi G-Ko Suru questa è la Soma il Kanji no G-Ko non è questo G non è qui ah no è doppia ok G-Ko così dovrebbe G-Ko Suru è fare pratica sarebbe pratica G-Ko Suru non lo scrivo perché dovrei scrivere a Suru sotto tutte le parole e non lo faccio praticare o fare pratica poi abbiamo Sagio che è lavoro Ni Shuchu Suru impegnarsi al lavoro proprio quello che faccio io tutte le volte Sagio Ni Shuchu Shuchu Suru Suru non lo scrivo perché mi rifiuto Sagio è lavoro Ni In Shuchu è impegnarsi Shuchu o concentrarsi al lavoro dipende mettiamo concentrarsi al lavoro o impegnarsi per me è più impegnarsi al lavoro concentrare oh sì bene il pipì un cazzo te la spacco la lavatrice anche se è arrivata da due giorni Shuri Shuri Suru non è processare Shuri Suru è risolvere tipo quando risolve un problema Shuri Suru vediamo cosa mi mette il mio fantastico dizionario nuovo Shuri 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 tutto l'anno na 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 vedi sapevo anche le parole giapponese Shuri guarda Mako che bello mette tutti i kanji con tutte le parole processare ancora disposizione Shuri Kanose processabile processore processato sorella però non mi dai processing cosa significa lavorazione trattamento no Shuri Suru Mako Shuri Suru non è risolvere Shuri Suru non è risolvere no no questo Shuri Mako Shuri è risolvere no però qua mi dice processare Shuri Suru è tipo risolvere un problema finire un problema cioè finire un lavoro Mettiamo eh sì ma non è quello il significato Shuri Suru è finire un lavoro cioè quando dici Shigoto Shuri sta hai finito il lavoro non è ho processato il lavoro cioè fa schifo cioè sarebbe ho processato ho fatto il lavoro completare il lavoro questo è giusto completare il lavoro perché io lo so perché parlando quei giapponesi Shuri esatto completare un lavoro finire un lavoro è giusto Keiaku è fare un contratto questo lo so quando vi fate assumere è Keiaku dovete guardare bene Keiaku perché se no ve lo picchiano Keiaku Suru è fare un contratto intanto mi fermo su queste parole qua perché io so che cioè leggo la traduzione però per me sentito come parlano i giapponesi ha un altro significato che non c'è scritto non so mai perché non li trovo mai fare contratto cioè contratto sarebbe contratto poi abbiamo Shiji è istruzioni cioè non è non è istruzioni è quando comandi a qualcuno mi fai una cosa cioè dici tipo lava fammi 100 flessioni e lavati i denti o spiegare non è spiegare più comandare tipo dai kengo tanto vi canto le canzoni del dai kengo mica cagate cioè indicare disegnare istruire dare direzioni sì ordinare più che comandare ordinare o istruire mettiamo istruire poi abbiamo ciose ciose si usa anche quando devi come si dice aggiustare il volume quindi è regolare ciosei regolare regolare poi o o dai no questo non lo so o tai questo non lo so o tai non l'ho mai sentito o tai dai kengo o tai suru non lo so lo cerco ma sto scrivendo non sto scrivendo un cacchio mi sa che sto andando troppo avanti adesso scrivo questo e poi scriviamo anche noi poi sono o tai un cana e imperia su dealing with people ricevere visita dare un servizio a ganeno power a ricevimento avere a che fare con le persone e ricevere persone cioè tipo ricevimento come si dice in italiano figa non mi viene in mente avere che avere lo scrivete così e poi avere a che mi viene in mente la parola in italiano quando mi viene in mente ve lo dirò o se me la dite voi facciamo prima tanto essere in carico tanto essere in carico tanto riunione no come che faccio è tipo servizio clienti però non è servizio che faccio accogliere accogliere bravo accogliere la gente bravo tu sì che mi aiuti mica mia mamma allora c'eravamo fermati però a Tosha no a Shokuba c'eravamo fermati quindi devo scrivere da Uchia Wase sì devo scrivere tutte queste parole allora Uchia Wase che è come cacchio si chiama meeting infatti è una cosa che mi capitava quando cercavo una parola nuova sul dizionario ci erano sempre 20 significati diversi per esprimere il concetto più che la traduzione eh sì quello è il problema ma il problema è che in italiano poi vengono tradutte in un altro modo perché poi noi guardiamo la traduzione sull'inglese quindi doppio casino Uchia Wase e non è detto che come lo dicono in inglese sia giusto in italiano Uchia Wase meeting non lo scrivo perché lo so an o da su è dare un'idea cioè dare una cioè dare una propria an o su è lo stesso di andan an o da su scusate da su an o da su è tirar fuori un'idea idea poi suggerimento e tei an questi canji qua quando li vedrò mi dirò ah sicuramente e poi quando li traduco dico cacchio lo sapevo la parola la conosco però il canji an sì ma tei non mi sembra di averlo scritto tante volte tei an comunque comunque adesso quanti mesi Marco quanti mesi sono che sta facendo sta cosa da marzo un bel po' di canji li ho imparati suggerimento suggerimento mia moglie non sa rispondermi quando gli fido le do Kikaku e piano eh Marco se te lo chiedo è perché non sono sicuro neanch'io Kikaku e piano progetto allora eh ma quando te lo chiedo io ho già visto il dizionario Kento e quindi però non mi ha convinto quello che mi dice il dizionario per quello te lo chiedo se non te lo chiedo Kento Kento Suru è considerazione Kento Kento Suru non lo scrivo è considerazione eh niente Gikko è fare pratica Gikko Suru è fare pratica o far la cosa no? sì fare pratica o farlo o farlo farlo fisicamente cioè farlo farlo e basta no fare una cosa e basta sì lo faccio sì non è dire solo c'è nel senso eh lo far cioè farlo scusa se chiedo essendo la prima volta che ti parlo tu sei in Giappone e lavori lì mi pare di aver capito da come parli giusto no è sbagliato io sono a Milano e ho sempre lavorato con i giapponesi Gikko Suru fino a quando è successo il bordello che sono rimasto a casa e da quel momento che sto ripassando il giapponese per il mio futuro e poi deciderò se stare qui o stare lì o non stare né qui né lì vado nello spazio Gikko e fare pratica o farle in generale però lo so beh lo scriviamo a fare poi abbiamo Sai Saggio praticamente sono stato ho studiato tre anni la grammatica su quel libro che ti ho fatto vedere prima poi il mio professore mi ha detto che era giapponese mi ha detto ho un amico in Giappone se vuoi andare lì ti ci mando volentieri così impari più parole ho fatto tre anni avanti e indietro dal Giappone all'Italia portavo le cose italiane in Giappone e le cose giapponesi in Italia quando qua non c'erano ancora anime non c'era niente e niente sono andato avanti così fino a quando la lira da 7 è passata a 16 quindi sono tornato in Italia e niente ho seguito dei giapponesi che sono entrati in un negozio ho lasciato il curriculum e dopo 5 minuti mi hanno chiamato e ho iniziato a lavorare da Prada poi ho lavorato per una gara che si chiamava Costum Nazionale che adesso ha chiuso e poi un'altra azienda giapponese che non la dico perché ho lavorato lì fino a poco tempo fa e niente adesso quell'azienda lì sta diciamo semifallendo e stavano semichiudendo e mi hanno detto prima che succedeva il disastro visto che le cose vanno male hanno chiesto a tre persone chi voleva andare via cioè chi voleva andare via se aiutavamo l'azienda e ci davano la buona uscita io ho detto di sì gli altri no e niente io sono qua e gli altri li hanno licenziati comunque perché la situazione è andata di merda bravo hai fatto quello che non ho fatto io in che senso bravo hai fatto quello che ho fatto io perché la situazione puzzava di cacca e niente completare un lavoro ho detto prima che la nave affondo perché io vedevo le mail vedevo qua se non cambia la situazione dobbiamo chiudere qui qua qua quindi quando mi hanno chiesto così non sono andato in Giappone trenta anni fa non sono andato ah non sei andato no io sono andato sono andato anche troppe volte il problema è che adesso a parte che adesso mi è venuto a paura di andare sull'aereo da quando andavo a lavorare a Hong Kong e l'aereo è atterrato fra due grattacieli e praticamente ogni volta che cioè praticamente io non dormo perché sono sono alto 1,93 e niente tutto il tempo sto sveglio e c'era l'aereo che sballottava avanti e indietro tutto il tempo fino all'arrivo quando sono arrivato ho baciato per terra mi sono promesso di insalire più su un'aereo infatti così è stato e da 5 o 6 anni che non vado in Giappone no 7 no 7 no e ho 5 o 6 anni e che Yaku è contratto però cioè sono andato così tante volte in Giappone che il Giappone di prima mi piace il Giappone di adesso no perché è troppo pieno di stranieri cioè se voglio andare in America vado in America infatti se vado in Giappone non vado a Tokyo e robe varie perché è pieno di stranieri riferisco andare nelle città piccole TG è dare ordine o istruire che Yaku scusate era contratto TG invece quella che senti sottoparlare è mia moglie che è giapponana Shiji ordinare o istruire ma io sarei rimasto anche in Giappone il problema è che sono dovuto cioè sono dovuto tornare io facevo avanti e indietro non è che ero lì fisso facevo tre mesi lì e tornavo tre mesi o sei mesi e poi stavo 15 giorni facevo turismo praticamente potevi stare lì sei mesi poi dovevi stare 15 giorni in Italia poi potevi tornare lì senza fare permessi di soggiorno e robe varie anche perché il lavoro che facevo io praticamente compravo una cosa da 100.000 lire a me me ne dava 200 e lui la vendeva a 400 che era il boom quando c'era stato il boom dell'Italia Italia in Giappone e tua moglie stava lì no mia moglie l'ho conosciuta qua in Italia è un ragazzo che studia giapponese è un ragazzo avrà la mia età perché ha detto 30 anni fa quindi ti ho già sgamato 30 ha scritto non 20 ha detto 30 quindi l'ho già sgamato che è la mia età e quindi siamo amicissimi siamo com'è che si dice docusei nello stesso anno scolastico ciose è regolare che si usa anche per altre cose può regolare il volume regolare regolare no no può regolare la roba lì otai questo invece non lo sapevo otai accogliere la gente avere a che fare con la gente tipo servizio clienti otai 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 se ti va me lo dici se non ti va non me lo dici otai accoglimento vizio clienti v mercate v mercate dov'è? è qua vicino v mercate è a Milano no tanto già sentito io sono stronzo che sono metropolitano vicino Monza vicino ah cacchia allora siamo vicini io sono vicino a Sesto sono la appena entri a Sesto è praticamente Villa San Giovanni la prima fermata per andare a Monza siamo vicini vicini e non lo sapevamo tanto vedi qui un mondo come piccolo essere in carica poi abbiamo niente tanto ci siamo fermati e andiamo avanti con Enco Enco è cambiamento si usa anche per altre cose Enco è cambiamento Enco cambiamento cambiamento poi abbiamo o cambiare cambiare allora poi abbiamo Okoku è fare la spia non sei figlio di Maria Okoku è riferire Okoku 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 riferire Okoku 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 di voglia di fare yuru ki yaru 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 ki ga aru è uno che ha voglia di fare yaru ki ga nai è uno che non ha voglia di fare una fava qua dice essere motivati invece va è solo chi quindi metto solo chi avere voglia o essere motivato aver voglia di fare può essere divato aver voglia di fare mi fa proprio capire e tipo se uno non c'ha voglia di lavorare tutti dicono yaru ki ga nai significa non c'ha voglia di lavorare denwa che è telefono come ben tutti sapete denwa uo tori tsuku ricevere le telefonate tori tsuku tsugu scusate ricevere denwa uo tori tsuku ricevere chiamate poi abbiamo denwa uo oryu nissuru questo non lo sapevo mettere in attesa denwa uo questo non lo sapevo denwa uo oryu questo non lo so oryu non l'ho mai sentito in vita mia non l'ho mai messo in attesa nessuno oryu questo qua è quello di rusuban e questo qua è quello di difendere poi lo controlliamo nissuru allora dovrebbe essere o ozon che è lo stesso e questo l'altro era rusuban ma eh se ne so tutte non è vero però ogni tanto faccio questo esercizio mentale per ricordarmi gli altri kanji fatelo anche voi poi denwa uo come cacchio si pronuncia oryu questo qua non me lo ricorderò mai oryu nissuru beh suru non lo scrivo perché se no ogni volta sempre suru suru dopo le balle mako oryu è mettere in attesa no? sì attesa attesa chiamata non ci sto chiam lo sapevo anzi met eh sì no qua c'è scritto denwa poi seki o azusu è levarsi dal cacchio che significa alzarsi dalla sedia però significa anche levarsi dai maroni eki o azusu che significa proprio lasciare la sedia però che significa lasciare il posto eh eh arigatons azusu e significa lasciare lasciar il posto non è lasciare questo qua è andare via dalla sedia però significa lasciare il posto eh poi qtai è fare la pausa io dico sempre qk che è la stessa eh qua dice qtai qtai è fare la pausa io io dico eh mako qtai ah qtai vedi allora ho ragione infatti ho detto qtai non l'ho letto male io ho detto io poi scrivo sempre qtai infatti era qtai ho letto male io qtai non l'ho mai scritto sinceramente qtai è pausa la pausa la pausetta la pausa sigaretta o la pausa cagata dipende quella che vi piace di più saboro saboro è quello che fanno tutti in italia che significa che fanno non lavorano non lavora c'è ne se perdono tempo perdo tempo e non lavorano più chiaro di così poi è tetsuya che è invece quello che guidava il grande mazinga tetsuya è quello del grande mazinga che però qua significa cinci schiare esatto cinci schiare quando fai scrivi tipo che fanno finta di scrivere al pc e non stanno facendo un cazzo o stanno chattando su tetsuya è stare in piedi tutta la notte stare notte bianco tutta la notte perdere tempo esatto perdere tempo perdi 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 tempo perdi tempo e mettiamo anche l'altra no facciamo perdi tempo perdi tempo facciamo così e poi l'ultima frase che è la più importante è kyuka che è vacanza che poi in giapponesi non ce l'hanno infatti non ho capito perché scrivono questa parola kyuka non me lo scrive perché non me lo scrive oh non me lo scrive o è stronzo ok allora questo qua vi insegno questi due kanji fantastici uno è yasumu riposare ok e l'altro è hima avere tempo libero insieme fanno kyuka che sarebbe vacanza che cioè che i giapponesi non ha vacanza ok ci siamo comunque il kanji questo qua non lo sapevo kyuka cioè so sapevo yasumi e hima ma anche tezuya l'ho già visto ma questo kanji qua non me lo ricordo questo qua è quello di notte e tezu non lo sapevo anche kyuka questo qua è lo stesso di riposo ma non sapevo che si che è la prima volta che l'ho visto cioè il significato lo so perché lo uso sempre però non l'avevo mai scritto in vita mia bella fresca adesso facciamo gli esercizi ma dove vai a correre c'è la maratona se c'è la maratona va bene ah no devo scrivere ciao eh no ma con mi devi attaccare le malattie allora eravamo a tanto adesso scriviamo enko enko che è quello di cambiamento che è il mio kanji preferito quello di enshin che è trasformazione prima o poi mi trasformerò in camel rider e andrò a lavorare in giappone come camel rider appena mi trasformo metti la mascherina si si ce l'ha la mascherina come no ma quando corri ti metti la mascherina ti entrano i moscerini in bocca se non ti metti la mascherina mi è venuto un infarto ha detto quando fa su pozu non c'è bisogno porto indietro porto indietro esatto siete contenti vi ha detto porto indietro siete contenti è sottoscritto in piccolo stronzi ecco adesso Mako si è offesa okoku e quando fate la spia non siete figli di Maria okoku ricordatevelo okoku o se tipo fate in un gioco fate la missione alla fine vi dice dovete andare a dirlo al tipo X c'è scritto tipo X okokuniste significa riferitelo a peppino okoku poi abbiamo shigoto o iki ukerui accettare un lavoro non fatelo mai shigoto poi un'altra cosa che mi insegno che è molto importante soprattutto se lavorate nelle società giapponesi se vi chiedono di fare una cosa e non è vostro lavoro dite di no perché al momento che voi dite di sì una volta lo dovete fare voi per sempre e naturalmente nel vostro stipendio quindi dite sempre no mi dispiace non è nel mio compito lo chiedete a chi e di dovere il goto o mi pagate per farlo che è la cosa migliore il goto tanto gireranno tutti finché trovano lo stronzo che dice sì sì lo faccio io e poi lo farà per sempre gratis yaruki garu è avere voglia di fare yaruki ganai è uno che non ha voglia di fare una fava vedi queste cose non ve le insegnano i libri ve le insegno solo io yaruki garu perché io lo so allora vai chi non lo scrivo perché vabbè ciao denwao urizuku questo non lo sapevo denwa denwa è telefono sarebbe elettricità più parlare parlare con l'elettricità è telefono eh quante ne sa anzi sarebbe discorso elettrico questo qua è tori è prendere però sarebbe tori tsugu che significa ricevere onizambunguru ma ti facevano fare tanti straordinari non pagati no quello scusa quello è scritto dai jobu no io non li facevo a parte dei straordinari no alla nostra società li hanno sempre pagati però io non li facevo perché a me dà fastidio cioè mi sembra di rubare i soldi alla società io arrivavo tipo sempre sono arrivato un'ora prima che aprivamo sempre però alle sette spaccate a meno che non ci fosse un cliente ci fosse stiamo lavorando uscivo sempre invece gli altri arrivano in ritardo in Giappone usano fare così sì sì in Giappone usano fare così loro arrivavano in ritardo e poi alla fine stavano lì a far finta di mandare mail o robe varie per rubare i soldi dei 15 minuti straordinari cioè una cosa terribile invece in Giappone funziona così fino a che il capo non si alza dalla sedia tu stai seduto e aspetti e fai finta di lavorare quando il capo si alza tu puoi uscire cioè tu non puoi uscire prima del tuo capo capito? e poi se il tuo capo ti dice andiamo fuori a bere tu non puoi di 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 no infatti questa cosa io l'ho chiarita subito appena sono entrato in società ho detto io lavoro do il 100% tutto il tempo ma alle 7 quando è vado a casa perché per me la famiglia è importante lavoro è importante ma la mia famiglia è di più e alla fine ho avuto ragione se vogliono te la picchiano esatto e poi li vedi in giro tutti ubriachi e poi non è che dici vabbè andate a bere fuori ti parlano di lavoro ti parlano dei cavoli loro che magari a te non te ne frega assolutamente una fava hai già i tuoi problemi devi ascoltare anche i problemi del tuo capo ciao chiosca e te ne mako ma no mi sa che mi stava parlando da fuori bello che è uscita e ha fatto partire un'altra lavatrice voi pensavate che la lavatrice di prima era la fine invece no ce n'è un'altra sotto riu o riu questo qua me lo devo scrivere o riu tenoioni zambunguru qua mi sa che no è senza la u o riu questo qua me lo devo scrivere che era attesa poi sechio azusu sarebbe lasciare la sedia ma significa lasciare il posto è questa roba di tona che dovete lavare no no mako qualsiasi lei praticamente tipo adesso è andata a correre appena torna la valeroba che aveva su è mia moglie è proprio pazza infatti gli ho detto la luce da adesso in avanti la paghi tu così ti passa la voglia di fare zambot free zambot free zambot free go e chi non conosce zambot free è una brutta persona l'unico robot dove dove la gente gli diceva è colpa vostra se arrivano i mostri e spaccano la terra siete delle merdacce e gli lanciavano i sassi e dove alla fine uno dei tre muore no pianto tipo un anno e mezzo allora chi che sechio azusu lo scritto chi che riposo fare la pausetta più che questo qua non lo conosco cioè nel senso la parola conosco ma il kanji no cioè il secondo non fare una mazza poi abbiamo tetsuya che è quello del grande mazinga tetsuya no tetsuya è un uomo d'acciaio aspetta com'è che era scritto così forse compragli un contenitore chiuso per i vestiti sporchi e fin c'è non è pieno vietagli di fare la lavatrice tetsuya no no ce l'ha ma appena vede il contenitore dovrebbe essere così tetsuya se non dico una cagata no no ce l'ha il contenitore per i vestiti sporchi ma qualsiasi cosa ci mette dentro dice è già pieno perché lei non è che spinge cioè li tiene dentro appena lei li butta dentro lanciandoli belli gonfi e appena vede che è pieno fa la lavatrice comunque la fa lo stesso anche se gli dici tipo gli ho comprato la lavatrice mercoledì cioè è arrivata mercoledì e lei avrà fatto praticamente solo ieri sera che non siamo stati a casa non ha fatto la lavatrice chiuka no scusa stava scrivendo tetsuya mi avete distratto con le ballerine nude le modelle tetsuya 20 lavaggi in due giorni esatto abatai te yuke tetsuya e stare in piedi tutta la notte cioè non dormire infatti se andrò in Giappone ho già chiarito con mia moglie che non andrò mai a lavorare in un ufficio o robe varie in Giappone perché di fare la vita da schiavo se lo possono praticamente scordare tutti nel senso mi sono spaccato il culo adesso ho pagato la casa e tutto e non ho intenzione di andare a 46 anni in Giappone per fare la vita da schiavo vado lì se c'è internet faccio le mie cose da casa adesso c'è la mia intenzione di fare le traduzioni dal giapponese all'italiano non ho ancora chiesto perché vista la cioè come si chiama visto il periodo sono capaci di dirti visto che non c'è lavoro se vuoi ti diamo due dita negli occhi e lavori o stai a casa io preferisco due dita negli occhi visto che o mi paghi quello che valgo o te ne puoi andare a fanculo e molti adesso con questa storia qua se ne stanno anche approfittando per non pagare perché ho tirato un cazzotto dicono tanto c'è gente che ha bisogno vabbè prendete l'oro e io non sono uno di quelli che dico perché molti dicono ma io devo lavorare e si fanno trattare come delle merde solo che così rovini rovini lo stipendio a tutti gli altri perché se io vado lì e dico che valgo duemila euro arrivi tu e dici ma io devo lavorare faccio lo stesso lavoro per cinquecento euro chi è che prendono me o te prendono te a cinquecento euro poi vai a finire che te che ha cinquecento euro però vali la metà di quello che vale voi io e poi dopo sei mesi mi chiamano a dirmi eh no quello di primo eh io li mando a fanculo perché non è che sono lì a loro comandi che ho fatto così anche da chi è che era mi aveva chiamato non era Louis Vuitton l'altro che non mi ricordo come si chiama quello che fa le borse comunque non mi ricordo più chi era mi aveva chiamato per fare il vice direttore io gli ho detto io per fare il vice direttore voglio tot è arrivato un altro cioè mi ha chiamato la direttrice e mi ha detto ah sei quello che cercavamo spero che prendano te ok ho detto vabbè fatemi sapere poi mi ha chiamato la direttrice e mi ha detto guarda che hanno preso un altro perché questo qua ha detto che fa le stesse cose che fai tu e vuole la metà e quindi vogliono provare con lui è normale che la società vuole spendere di meno è giusto cioè il loro regolamento ci sta poi dopo sei mesi hanno visto che questo qua era solo un chiacchierone e basta e non sapeva fare un cacchio e mi hanno richiamato a me e a quel punto gli ho detto adesso ve ne potete andare raffanculo anche se il posto è rallettante tutto quello che vuoi ma visto che ti comporti così già una volta sai che alla prossima volta lo farete di nuovo quindi tanto se vogliono inchiappettarti lo fanno senza nessun problema quindi andate a lavorare per quello che valete se no fate altro o cercate altro allora niente facciamo gli eserciazzi perché se no qua parla parla non andiamo più avanti allora gli eserciazzi mettiamo il foglietto sopra che chi fa la spia non è figlio di Maria perché sotto c'è scritto l'iragana io non voglio leggerlo così mi esercitizzo allora questo qua era giugio in giugio in che sarebbe i lavoratori gatta dat tatta 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 acinin acinin hai visto Massi c'è scritto acinin sembri come quelli che fanno lezione sui contatori per animali senza le ali esatto infatti ho appena detto acinin scusa no no ma va figura sto scherzando io sono contento che mi fai parlare se no non facevo la live se volevo stare zitto la faccio apposta per per parlare cioè per non studiare anche da solo otto persone tenete compagnia stai scherzando ci sai una caixa e la ditta piccola otto persone hai visto Massi adesso sai dire otto persone anche tu Descara office mo office mo anche l'ufficio vedimo tutte cose che mi ha insegnato coco tu va tutte parole che mi ha insegnato to ato ichibuia ichibuia no qua si dice ito ah no è è stanza ito eia si dice ito e si giusto ito eia da che nandes ok allora la frase disse giugio inga tatta acinin no ci sa tatta non è vabbè tatta acinin no ci sa nakasha descarà office mo cocoto atono ichibu ichi e continua a dire ichibu invece ito eia da che nandes when the saint go acinin esatto allora i lavoratori sono allora visto che questo è un visto che o perché l'azienda è piccola con otto persone cioè i lavoratori sono solo otto persone di una piccola azienda anche l'ufficio e poi qui e poi un'altra un'altra piccola un'altra stanza e basta praticamente sono composta giugio in le parole nuove ok poi abbiamo dos che è due per gli amici con mondai che è questo problema con mondai ni do questo qua era taiko 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 prova taiko però non l'abbiamo fatto no aspetta che quale modo taiko non è taiko tai tai ho tai ho tai ho tai ho tai ho suru ga ma tai ho non l'abbiamo fatto e perché mi mette negli esercizi parole che non ci sono mi prendi per il culo tai ho il tamburo no quello è tai ho il tamburo si tai ho no tazzo gi ma qua è tai ho ho scritto male io ma il problema è che non c'è nelle parole me la mette come parola nuova ma sarà nella lezione prima no non è neanche nella lezione prima io la sapevo la parola però il problema è che qua non c'è ogni tanto il libro è pazzo mi dice questa l'abbiamo te l'avevo appena insegnata invece non c'è non c'è boh vabbè tai ho suru ga ho sbagliato l'esercizio anche un'altra volta ho trovato un esercizio che non c'era praticamente la pagina di questo esercizio era dell'esercizio dopo lo scopriremo tra poco caisha azienda caisha no no questo qua ma no sono fuori di testa oh shin non so parole che mi ha spiegato adesso ga ma da me le segna vedi che me le evidenzia ma non sono parole che mi ha insegnato adesso boh madaki mattenai qualcosa che non vuoi mitai danè aspetta alle altre si allora taise staff han shori tetsuya enko girona anche non c'è ma è fuori di testa shusse ma ha messo delle parole che non ci sono questa qua è tipo direzione allora beh con questo problema in quale modo possiamo risolverlo sarebbe kai shano o shinga ma da qua c'è non manca il cangi kima tenai kima tenai mitaine questo problema in che modo possiamo risolverlo l'azienda non ha ancora dato direzioni cioè non ha ancora dato indicazioni vediamo questo qua se ha un altro significato sexy reagan coordinare in quale modo dobbiamo si dealing with in che modo dobbiamo reagire in che modo dobbiamo fare sia giusto comunque mi ha insegnato questa parola come se l'abbiamo fatta adesso e non l'abbiamo fatta e questa parola come se l'abbiamo fatta adesso e non l'abbiamo fatta praticamente il libro si droga isogina okiaxam dattano de kyuna kyuna o isogina prima di scrivere tutti i due isogu è fare in fretta però manca però me lo mette così leggiamo come si okiaxam è cliente okiaxam quando il cliente dovete leccargli il culo quindi dovete rimetterla o e sama datta era visto che era un cliente che aveva fretta tori aezu tori aezu è prima di tutto uedani tori aezu tori aezu comunque non hanno aggiunto un cacchio nel nel nuovo code cioè nella beta è uguale a prima tori aezu watashiga io watashiga otai otai che notare che otai è il contrario di taio otai simasta otai l'abbiamo fatto invece mi sembra otai è ricevere dare assistenza era una era un cliente che aveva fretta rettori aezu innanzitutto l'ho ricevuto io sono contento per te e qua invece abbiamo tra poco la prova mi pare di aver visto un nuovo assalto ma potrei aver visto male è un assalto di che stai a parlare? ah si di quello lì ma io a me gli assalti se li possono infilare su per il culo sinceramente mi fa cagare mi sa che questo code se rimane così non lo prendo devo controllare quella roba lì delle serie di uccisioni se rimangono come sono adesso se li possono non lo compro tewa ninatero aoki aoki san è il signor aoki che è il signor blu il signor albero blu che sarebbe albero verde perché voi sapete che blu e verde in Giappone è la stessa cosa o sono Tanomi Tanomi è richiesta Tanomi Nanode Tanomi Nanode visto che me l'ha chiesto il signor Naoki il signor a occhi scusate sono scigoto quel lavoro esatto ma è il signor blu o verde? eh no è il signor albero verde in questo caso anche se c'è scritto blu si usano dire che il semaforo è blu esatto è non solo il semaforo ma anche le mele anche le mele sono blu anche le mele sono blu e qua anche gli alberi sono blu dice però gli alberi sono verdi come tutti sapete sono scigoto uo uki ukeru iki ukeru kotonin shimasta kotonin shimasta allora eh eh allora visto che me l'ha chiesto il signor albero blu eh che mi fa sempre dei favori eh ho accettato quel lavoro e da quello giorno farei lo schiavo a vita cinque e chissà perché eh boh infatti quando l'ho spiegato due lezioni fa ai ragazzi che facevano le lezioni per i principi onti Yamada Buccio che questo qua è il direttore Yamada eh wa eh irashai masca c'è il signor questo qua invece è Keigo quando trovate irashai masca questo qua è il verbo questo qua irashai mas Master Joe è un nuovo allunno Master Joe eh no ma non è un allunno perché lui sa già il giapponese mi è venuto qua per prendermi in giro perché non so il giapponese Yamada eh tua è venuto a svelarvi che io scrivo cose a caso e non sto scrivendo il giapponese quindi vi ho sempre preso per il culo se che io eh eh azus azuste 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 o rimasca ah questo qua è Keigo questo irashai masca sapete cos'è? non è vero sto facendo ripasso questo lo sapevano già tutti questo qua cos'è? eh è imasca però in forma eh super cortese super leccaculo che è una cosa che io poi ha un'altra cosa che ho chiarito subito Joe che io con il mio capo non ho mai parlato in Keigo perché Keigo praticamente tu lo usi per dire che tu sei più basso della persona con cui stai parlando cioè ti abbassi hai capito? e l'altro lo tieni più a livello più alto e quindi gli devi leccare il culo con questo tipo di linguaggio qua è una cosa che odio e gli ho detto ti chiarisco subito che qua siamo in Italia e io il Keigo non te lo do te lo chiarisco subito ve lo chiaro così sai che il Keigo da me non lo vedrai mai eh Tata Ima aspetta Tata Ima ok e qua c'è un Ima scritto così perché dopo c'è il kanji perché se no confonde gli fai un pampà no gli parlo normalmente cioè non gli parlo con il caculismo allora il direttore Yamada è stato che ho l'università non lo insegnano eh lo so che non lo insegnano eh non mi si chiama c'è il direttore eh perché l'università fanno è il livello 4 e 5 eh l'università è questo libro qui in tre anni fanno 4 e 5 non fa dopo è l'altro è 3, 2, 1 quello che stiamo facendo adesso è 2 però se vuoi ci sono tutte le lezioni se vuoi studiare con me a me fa piacere quindi vedi tu eh e comunque le lezioni rimangono nella raccolta se vuoi recuperarle per recuperarle se vuoi questo file qua te lo posso mandare allora Yamada c'è il signore eh il direttore c'è il direttore eh eh Yamada no eh eh cioè qua non è che ha lasciato il posto significa studiate come faccio io esatto come fa lui eh Yamada eh è appena sarebbe appena uscito questo qua appena ha lasciato il posto che significa che è appena uscito quindi non c'è poi eh niente poi scrivo eh qua le parole abbiamo Uki Ukeru che abbiamo fatto di nuova queste qua non le abbiamo fatte le due sopra hanno mentito Sekio Azusu è lasciare il posto di la sedia significa lasciare la sedia che però non c'è qua non so perché l'ho messo in corsivo poi qua se posto 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 ok niente riscrivo tutte queste fantastiche frasi vediamo avanti allora eh eh Giuglio Inc è lavoratore buongiorno davis hai visto ieri AMD davis no come no figa la presentazione più importante non la guardi come sosti 5.000 eh spaccano il culo quello che sono un po' cari sono messi hanno messo i prezzi tipo come cacchio si chiama eh tipo Intel allora Giugio Inc Gatta Tatta ci sono solo 8 persone no non è la scheda video è la CPU e poi la scheda video che hanno fatto vedere figa era la scheda video che avevano messo sui leak è orribile fisicamente cioè esteticamente è una monnezza ci sai una caixa è azienda piccola ci sai una caixa des desca descara visto che è una piccola società office c'è l'ufficio office office mo anche l'ufficio ma io con 3.700 vado a manetta poco si ma poi non c'è tutta sta gran differenza ha fatto vedere che tipo 20% in più cioè quindi boh Daniele 95 ui cocco cioè se devi fare un pc nuovo è un discorso ma se ce l'hai già non ha senso cioè boh ecco ancora ito eia si dice questo qua ma me lo scrivo perché sono stronzo continuo a dire ichibu invece è ito eia è ancora una stanza ito eia praticamente qui l'ufficio qui è un'altra stanza significa un ufficio piccolo di 8 persone ha solo 3 stanze da che nanda da che è solo un altro modo per dire shka da che però quando usate da che non si mette il negativo questo non ve l'ho detto perché sennò vi confondevo la vita se usate da che non va il negativo se usate shka dovete mettere il negativo se mangi due tettine ti crescono le tettine cono mondai questo problema mondai cono mondai ta 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 mondai è problema ni do do è come come fare cos'è la roba del date ho scaricato cos'è la roba del da che il da che è un altro modo per dire solo che però non metti il negativo però non ve l'ho detto adesso non vi confondevo rimanete con la regola che mettete shka è il negativo da che non cagatelo fino a che non lo troviamo ottimo e no dovete imparare le cose come le usano loro poi piano piano vedete che anch'io trovo cose che dicono ma infiga si diceva nell'altro modo fino a ieri poi cambia la vita cambia kaisa è azienda no oshin la direzione cioè le indicazioni dell'azienda cioè gli ordini sarebbe oshin oshin e la seconda parola è ago oshin ari ga ma da ma da a no te l'avevo dato ma da chi mattene andana i mattene nai mitai dai da ne ma come risolveremo questo problema la come risolveremo con questo problema punto di domanda sembra che l'azienda non abbia ancora deciso le direzioni le direttive o le direzioni non abbiamo ancora avuto direttive poi questo qua era chiuna no è chiuna ok tre chiuna ho messo i soghi ma non ci stava chiuna chiuna okiaxama quando c'è il cliente dovete mettere la o per le cagli sedere chiacquo e cliente qua mette okiaxamae samae caro quando tipo parlate di me dovete sempre dire are sama okiaxama okiaxama adatta era un carissimo cliente che aveva tanta fretta quindi ero rompicoglioni traduzione toriaesu innanzitutto toriaesu ok alex sama esatto alex sama bravi così vi voglio o donò o alex donò va bene lo stesso watashi io innanzitutto lo ho conto si barba sama barbusa ma ho anche la barba bianca aspetta che ve la faccio vedere c'è solo il mento bianco che sembra che l'ho fatto apposta invece no è così mi fa male la panza la panza ieri ho mangiato la pizza e stavo morendo però il cellulare mi corregge sama con samanta quindi dal cellulare ti chiamerò samanta va bene sono molto contento che mi chiami samanta sono molto contenta che è maco che mi chiami samanta 4 anche perché mi dirai chi è samanta e se la prenderà con me itsumo itsumo è sempre sewa quando trovate sewa è essere grato a qualcuno sarebbe mondo più discorso che significa essere grato non so per quale motivo ninate ninate si tratta del signor Aoki che mi ha sempre aiutato e quindi ho dovuto accettare il lavoro di sparare la merda con le mani Aoki Sanno Tanomi una richiesta Tanomi è richiesta Tanomi 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 Nanode Sono Shigoto Sono Shigoto quel lavoro Sono Shigoto Uo Iki Ukeru Min Nanakamada Che due palle è da due giorni che la connessione non va A me non va niente U Iki Ukeru Koto YouTube ha deciso di cambiare il sistema senza avvisare naturalmente delle live e tutte le live che facevano rimanevano su ieri e le ho dovute ricaricare tutte adesso ho scoperto che hanno cambiato la chiave di stream senza dire niente e quindi tutti streamavano tranne me tranne me tranne me allora si tratta del signor Aoki una richiesta del signor Aoki che mi ha sempre aiutato e quindi ho dovuto accettare quel lavoro di Murda 5 Yamada Yamada che è il signor Montagna Campagna Yamada Buccio Yamada Buccio Buccio che è Buccio di culo quindi direttore come potete ricordarvi Buccio più che altro va a tratti e ogni volta devo riavviare il modem eh ma cos'è che hai cos'è che avevi Vodafone mi ricordo che hai messo Vodafone no? ma chiama scusa? cioè paghi lo stesso non è che paghi di meno Irasai Masca c'è il signor eh chiamali perché loro lo fanno apposta ti abbassano la connessione perché sono dei figli di trota ehm eh c'è il direttore Yamada no Ie eh Yamada Wa Yamada Wa se vedete questo qua che risponde non sta rispondendo in Keigo perché è superiore a quello che gli sta parlando l'altro gli sta leccando il culo e lui risponde no è appena uscito e fatti cazzi tuoi Tada Ima in questo momento Tada Ima in questo momento eh Seiki o Azuste o Rimassi in questo momento non c'è che non è al suo posto che significa non c'è ah Seiki o Azuste o Rimassi può anche darsi che siano i server della Sony Può darsi che siano i server della Sony ma no è impossibile Hai aperto le porte magari sono le devi aprire le porte Sono i server Sony No magari sono le porte del hai aperto le porte del router se non apri le porte non funzionano a Favat andiamo avanti cioè ti blocca e ti cade la connessione per quello aspettate che mi spoglio che è un caldo boia Allora uno è Office e l'altro è Shoku no l'altro è Soshiki Questo qua era Kien Allora qua in ufficio ma questo scusa vedi dentro l'ufficio o dentro il posto di lavoro non si può fumare per me in italiano sono tutti e due giusti le porte del router scrivi porte router Vodafone e cerca porta e router Vodafone PlayStation 4 e le devi aprire vedi tipo questa frase qua lui mi dice al lavoro non si può fumare e quindi bisogna fumare fuori in ufficio non si può fumare quindi si si deve fumare fuori per me sono giusti tutti e due eh ma eh cosa cambierebbe eh cosa cambierebbe un cazzo esattamente quello quindi devi capire nella testa dei giapponesi loro che parola preferiscono se no hai sbagliato però in italiano sono giuste tutte e due sono quelle frasi eh questo qua è Kien Kien mi ricordo più Kien qua è quello di vietato com'è che era Kien questo me lo segno che non me lo ricordo lo pronuncio Kien invece è proprio ora che volevo provare la beta la Sony si ribella esatto Kien 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 allora visto che dentro l'ufficio è vietato fumare ci sta visto che nel posto di lavoro è vietato fumare ci sta uguale però vabbè tabacco e se vedete qua tabacco me lo fa scrivere in katakana noi l'abbiamo imparato in iragana ieri sui ta è fumare no sui ta ito sui ta è ito e chi vuole fumare wa sotto sotto e fuori de onegaishimasu onegaishimasu che poi ormai in Giappone non si può fumare né dentro né fuori altro motivo per cui non vado in Giappone a parte che non fumo più però prima prima potevi fumare nei locali perché avevano gli aspiratori adesso neanche nei locali puoi fumare ma neanche fuori puoi fumare c'è praticamente un quadratino di merda disegnato di giallo dove puoi fumare no no neanche per strada solo in dei punti perché loro dicono che quando cammini con la sigaretta in mano puoi accecare i bambini la stronzata è più grande e soprattutto fumare camminando è super vietato perché è pericolosissimo allora qua abbiamo messo office due issue can che è una settimana issue can issue can per una settimana questo è kyukeno dovrebbe essere una settimana di vacanza era kyuka kyuka speriamo uo totta ho preso una settimana perché diffondi il fumo esatto di qualità c'è solo no ma me lo dite adesso che c'è solo vabbè ormai rimarrà così è ormai tardi cioè non posso rifarlo partire me ne dovevo accorgere prima è stronzo no io ce l'ho in tutte le qualità no 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 io sono entrato ora no no io ce l'ho in tutte le qualità io lo sto guardando a 160 si vede che è un caso pure io pure io ci sono tutte ci sono tutte ok l'importante io vedo kaigai ryoko kaigai è estero ryoko e viaggio ni ite mi mas ite mi mas che vado a vedere sarebbe ite ki mas ok ho preso visto che ho preso una settimana una settimana di vacanza me ne vado in viaggio all'estero e speriamo che non torni tre buca no ito to nas to kini washi shizurei shizurei ni naranai oni questo qua è al superiore allora me ue poi ti dicono sempre stai attento e vedi questa cosa qua io sono cose che odio me ue che significa la persona sopra no ito quando parli a un tuo superiore sarebbe to anasu su queste cose qua c'è tipo feudale che è odio del giappone infatti per me possono andare a fanculo shizurei che infatti è maleducato se gli parli come se parli con uno del tuo livello perché devi parlargli come se fossi una merda naranai oni chui chui a stare attento chui stekudasai e io non farò mai infatti la prima cosa che chiarisco è non vi darò mai del keigo se vi va bene così se non vi andate a fanculo comunque alla fine era il ripetitore comunque alla fine era il ripetitore di cosa il ripetitore di cosa me ue no ito quindi al tuo superiore quando parli a un tuo superiore quando parli a un tuo superiore hai visto il film Kagemusha Kagemusha sì state attenti a come a non parlare in modo a non essere maleducati vi dicono il cinema è vecchio come il cucù però io guardo più film giapponesi proprio in giapponese tipo adesso sto guardando cosa sto guardando non mi ricordo neanche cosa sto guardando lì è rappresentato il keigo bello non posso vedere lì è proprio keigo a manetta il bello non posso vedere le armi adesso sto guardando com'è che si chiama? Anzawa Naoki aspetta sto guardando questo ma ve lo faccio che è di un pesante che io non mi ricordavo che era così pesante che questo qua lavora in banca e lui per la banca si mette a fare dei numeri cioè pesante pesante infatti mi passa la voglia di vederlo e lui praticamente se gli fai uno sgarro a lui lui te lo cioè ti praticamente ti rifà lo sgarro però cento volte più grosso però è tutto io per l'azienda 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 mi fa vedere il mal di testa solo a vederlo infatti non so se ce la farò a vederlo si chiama Anzawa Naoki si proprio giusto è la seconda serie Anzawa Naoki è quello che sto vedendo adesso Anzawa Naoki e poi sto guardando anche Suiz che è quello degli avvocati però prima finisco Anzawa perché Suiz non è ancora finito perché mi piace guardarlo quando è finito infatti Anzawa Naoki è appena finito lo sto guardando Allora Karewa Zuibun lui Karewa Zuibun Zuibun Yaruki ga aru Saboru mitai danè Mainichita no shi son nishigoto steiru Allora qua dice lui sempre è molto motivato ogni giorno si diverte al lavoro o può essere Saboru mitai Mainichita no shi son nishigoto steiru dovrebbe essere Yaruki gaaru Kare Mako se Yaruki gaaru al lavoro ti diverti? Io no Sì ma dice Mainichi Mainichi Tanoshiso shi goto steiru Lui io quel cazzo che mi si diverte al lavoro Tanoshiso nishigoto steiru allora lui è sempre molto motivato ha sempre voglia di fare quindi si diverte sempre al lavoro solo in Giappone sono le frasi fatte che non sono sono false fu alze fu alze come dicono hai visto Mayasman won't eh no non ho Netflix l'unica cosa che ho visto su Netflix è stata Baki e come cacca si chiama Genkan no Gen Gensan non mi ricordo più Ashura com'è che si chiamava Genkan o Gensan non mi ricordo più no è un altro nome eh no non mi ricordo più eh no non mi ricordo come si chiama comunque è quello di Ashura quello che si prendono la mazzata e ti spaccano le mani i piedi e i denti e ti strappano la pelle di dosso con una manata e poi torna ehm sono shigoto quel lavoro sono shigoto ehm uno è Yoka e l'altro è Tanto no Tanto allora qui è Tanto no Tanto il responsabile di quel lavoro ehm è il signor Nakata che è dentro la campagna per gli amici San Node visto che il responsabile il signor Nakata chiedi a lui e non rompermi San Node Node visto che il responsabile il signor ehm Kanogio Niki Temora Emaska vedi le classiche frasi questa è la imparatela perché questa è la classica frase per mandare a cagare il capo Kanogio Ni Kite Mo Ra E Masuka perché se gli rispondete voi poi salete voi ad essere in carico di questo lavoro se ne occupa la signora Tanaka visto che visto che di questo lavoro se ne occupa la signora Tanaka dovreste chiedere a lei così vi levate il capo dai marmoni perché se non siete responsabile se voi rispondete poi il capo verrà sempre a chiedere di voi di quello lavoro lì imparate anni cioè dopo 20 anni no più di 20 anni di lavoro che i giapponesi so dove dov'è che la andate a pigliare ok scriviamo questo qua è Kin En io dico sempre chi è invece è Kin En che è vietato fumaro allora giriamo la pagina gira la pagina gira la 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 uno aspetta che non vedo più allora ok ditemelo che so storto no uno office office che come sapete tutti office world quella roba lì office nai dentro l'ufficio Kin En non si può fumare cazzo vi canta le canzoni del Trader G7 solo io nanode allora visto che all'interno dell'ufficio non si può fumare chi vuole fumare se ne vada vada fuori tabacco tabacco o sui tai tabacco su e fumare qua e tabacco sui tai che significa chi vuole fumare sui tai ito sui tai ito o kata oa soto che è sempre fuori soto de onegaeshimasu però poi vai fuori fuori è vietato fumare quindi dove fumi soto de onegaeshimasu onegaeshimasu invece prima negli uffici c'era la stanza per fumare adesso non c'è neanche quella due ishukhan una settimana ishukhan qui non capisco tutti sti cazzo di divieti se poi alla fine è lo stato che vende le sigarette però ishukhan ishukhan kiukha ripò vacanza ho preso una settimana di vacanza ho totta ho preso una settimana di vacanza kaigai che sarebbe all'estero che è fuori dal mare praticamente che significa all'estero kaigai ryoko perché vi ricordo che è un'isola al giappone si è una contraddizione in termini esatto ryokoni itekimasu poi se praticamente sei come si chiama vieni escluso hai capito è come se è una cosa razziale cioè sta diventando come se fosse razzismo per dire mewe chiedi e vendi e metti il fumo uccide sì però esageri hai capito cioè deve essere un limite a tutto perché poi anche mangiare uccide qualsiasi cosa fai può uccidere se fatta in modo sbagliato però non è che dicono allora i ristoranti li chiudiamo tutti perché se no mangi mal sano anasutokiniwa quando parli col tuo superiore ti devi calare le braghe inginocchiarti per terra e Shizurei è maleducato Shizurei della lavatrice che è ripartita di nuovo alla centrifuga che cosa significa? cosa significa? che già la seconda volta che va la lavatrice Naranai e Yoni stai attento a non essere maleducato Cui è stare attento Cui 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 Steku da Zai Poyot quattro Kare che è lui e non è lei perché è lui Kare Wazui Bun Zui Bun lui ha molto voglia di fare Yaruchi Yaruchi Garumitai lui sembra che abbia molto voglia di fare poi quando gli confermi il contratto non fa più un cazzo come fanno tutti i giapponesi Mainichi tutti i giorni Tanoshiso è divertente non so che cazzo c'è da essere divertito però sta lavorando Tanoshiso Shigo ah no mi piace non ho scritto il cangio di lavoro Shigoto Shigoto Stero lui lavora tutti i giorni come se si stesse divertito perché ha molta voglia di fare esatto e beh dipende che lavoro fai capito anche io se faccio lo spogliarellista mi diverto però se spacchi le pietre non ti diverti anche se fai finta di divertirti 5 sono Shigoto quel lavoro il problema è che i giapponesi ti devono sempre disegnare che il lavoro serve il lavoro è vita il lavoro è cioè è tutto hai capito tanto infatti ti fanno sempre vedere che il marito lavora dalla mattina alla sera il suo compito è solo lavorare e portare i soldi a casa per forza poi si ubriacano e vogliono morire è una vita di merda Tanaka Nanode che poi è quella che facciamo anche in Italia è la stessa cosa ma facciamo gli schiavi anche noi studi tutta la vita per fare lo schiavo molto bene io invece sto studiando il giapponese per fare lo schiavo in Giappone ottimo direi Kite Morae Masch quando vedo il mio nipotino eh papà eh zio sto studiando eh bravo continua a studiare che così farai lo schiavo Kite Morae Masch che poi è una cosa tristissima che studi vent'anni per fare lo schiavo la verità la triste verità allora sono shigoto notanto a Tanaka San Node Kanogio Nikite Morae Mascha eh visto che eh se ne occupa di questo lavoro se ne occupa la signora Tanaka potrebbe chiedere a lei elevarsi dai coglioni allora andiamo avanti dos non finisco più questa lezione è la più lunga del mondo Dare Karamoi Dare è il nostro Dare sapete cos'è no? è chi? Dare Karamoi eh da su e qua sarà sicuramente da su da su de zu da zu cosa cazzo è? da zu dovrebbe essere o de su o da su ma c'è scritto da zu boh scrivo da zu ma poi lo controllo perché non mi suona strano che c'è da zu infatti non esce de zu boh de zu non mi ha sentito de zu ehm ehm kaigi per riunione kaigi kaigi wa ehm nagaiku 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 non me lo scrivi neanche nagai ho controllo la pronuncia comunque questa qua nagaiku e yuke e yuku furido e grandaisa baccaridatta ehm e qua devo guardare sotto la parola allora kaigi naga biki ah naga biki io ho detto nagaiku naga b qua me lo segno che era b si pronuncia b cioè lo sapevo ma si mette il nigore allora eh qua bisogna mettere qualcosa allora dare caramoi an o da de zu ah ok ok de zu e non essere no 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 vedi questo qua è sbagliato perché tu l'hai tradotto come io l'ho scritto eh questo qua sarebbe eh desu il verbo desu però quando trovi zu eh tipo non non uscire non avere è non eh come è senza scusa non è non è senza senza uscire e qui manca una parola che dovrebbe essere an e idea ok eh nessuno ha avuto sarebbe dare caramò che sarebbe da nessuno c'è stata una buona idea e quindi eh la riunione si è allungata questo qua è de zu sarebbe desu eh sarebbe scusa non desu è deru che però va via eh va via ru e diventa desu che sarebbe senza uscire infatti se tu scrivi de zu non ti esce sul dizionario perché sono e sarebbe deru più eh zu eh poi altre parole vediamo eh iku però si scrive tipo ikazu invece quando mettete il verbo eru iru e si toglie eru e si mette zu mamma mia le sa tutte e queste qua sono quelle cose lì che praticamente se tu non sai le basi ti sbagli cioè tipo questa l'avresti cioè io già quando ho visto lo zu ho detto qua c'è qualcosa di strano perché il kanji non esce quindi senza che nessuno abbia tirato fuori una buona idea la 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 riunione si è allungata ok la risposta è han dovrebbe essere idea cioè non è che hai sbagliato a cercarlo però l'errore è lì l'avrei fatto anch'io shigoto ga waranai il lavoro non finisce shigoto ga waranai waranai il lavoro non finisce konomama in questo modo konomama datò se continuiamo in questo modo kyo wa oggi poi lo scrivo sotto kyo wa kyo wa titititi tai te shori wa shori tetsuya ninarisoda ah pensiamo tetsuya hanno messo la mina gas si infatti su gisho da da zuppari de zuppari hanno messo la mina gas beh la mina gas spacca dopo eh beh quando la posso provarla allora imano kaisha bla 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 io metterei tetsuya cioè il lavoro non è ancora finito se andiamo avanti in questo modo oggi faremo fino a notte tarda perché in Giappone se non finiscono un lavoro continuano fino a quando muoiono tetsuya ninarisoda tetsuya ninarisoda però devi livellare il rango per usare alcune cose eh no ma è giusto anche che prima avevi tutto sbloccato non è così cioè sei tutto sbloccato la vita è bella kiro è giallo kiroi come le mie mutande kiroi ki-i-ro-i ok kiroi eh jampa jampa è giubbotto jampa è giubbotto mago jampa giacca tipo giacchetta o kite-iru kite-iru è vestire no ga visto che ho una bella giacchetta gialla le zanzare fanno festa e tosha tosha è la mia azienda nella nostra azienda siamo tutti dei limoni tosha no ah visto che lui al no visto che si veste con una felpa gialla eh staff tai-se cos'è che era mago tai-se non me ne ricordo più aspetta mo lo cerco tai-se eh non me ne ricordo più l'ho scritto me lo ricordo ma dove l'ho scritto non l'ho scritto non lo trovo neanche più no c'è scritto tai-se punto qua tai-se eh ho capito e comunque eh shoku tai-se sistema no ok allora questo è su ta-fu per me e devo scegliere praticamente tra cinque parole la parola giusta da infilare nel buco giusto mi piace infilarle nel buco giusto allora staff poi abbiamo quattro che è imano kaisha che è l'azienda di adesso imano kaisha imano kaisha no eh non dovrebbe essere dovrebbe essere io metto tai-se naka-naka 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 è per niente naka-naka ga shigoto lavoro mamma mia che parola brutta che ho scritto shigoto ehi dai shigoto ce la faccio si poi yasumu riposare al lavoro yasumu koto 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 de kinai non riesco a scrivere koto pensavo fosse dentro dentro ma molto naka-naka in mezzo in mezzo no significa per niente imano kaisha no tai sedewa con allora in teoria suona giusta poi potrebbe essere sbagliato allora nel modo in cui come è organizzata l'azienda di adesso non riusciamo per nulla a riposarci dal lavoro potrebbe essere sì come potrebbe essere no lo scopriremo dopo lo scopriremo solo vivendo uno dare kara vedi questo qua è dare dare kara mo è da nessuno dare a dare mo lo sai che nessuno qua è dare kara mo non so perché ho evidenziato mi è partito il dito dare kara mo da nessuno abbiamo avuto una buona senza avere una buona idea che voglio io non quelle che vuole il gioco eh no devi usare le armi del gioco all'inizio poi ti sblocchi quelle che vuoi tu è così l'aiuto è così era così sì ma hanno cambiato le serie io sono sempre a 2000 punti quelle stronzate di se no ci giocano loro dai ragamor i an das ga desu ga desu questo me lo segno che avevo pronunciato non posso creare neanche la classe no la classe la te la fa creare devi arrivare tipo a livello 4 è sempre stato così kai all'inizio devi arrivare a livello 4 per poter sbloccare la classe e allora è una merda se lo possono ottenere quel gioco se lo possono ottenere 80 euro non glieli do mi dispiace aspetto che me lo regalano col playstation plus tanto io fretta non ne ho nagabiki nagabiku nagabiki o biku nagabiki dove cacchio è nagabiku baccaridatta baccaridatta hanno allungato continuano ad allungare la riunione baccaridatta allora perché nessuno senza che nessuno abbia dato una buona idea la riunione si è continuata ad allungare 2 shigoto shigoto che è sempre lavoro però i caricamenti durano il doppio dell'alpha è bene ottimo no i caricamenti della play 5 praticamente shigoto ga no i caricamenti durano di più perché non c'è gente perché c'è gente è solo la gente che ha prenotato il gioco e quindi dura di più perché c'è poca gente ci mette di più shigoto ga o aranai o aranai significa non finisce o aranai non riusciamo a finire il lavoro Konomama in questo modo Konomama se continuiamo in questo modo Konomama dato che sarebbe se continuiamo in questo modo se continuiamo in questo modo Kyo-wa oggi Kyo-wa Tetsuya e vi ricordo che Tetsuya è sempre quello del grande Mazinga Tetsuya è molto importante nel giapponese chi non lo sa viene licenziato subito Tetsuya Nii Nariso saremo in piedi tutta la notte molto bene Nariso da 3 Kiroi Pansu le mutande gialle c'è scritto così Kiroi Pansu Kiroi Jampa alle mutande gialle che significa che si è pisciato sotto Kiroi Jampa 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 è giubbotto o Kiteiru si è messo cioè veste il giubbotto giallo e quindi è uno dello staffo è un fottuto limone le cose sono due Kiteiru visto che ha il giubbotto giallo Tosha è uno della nostra azienda perché siete dei fottuti limoni Tosha no staffo su staffo o vuole attirare le zanzare le cose sono due staffo adesso poi 4 Imano Kaisa l'azienda di adesso Imano Kaisa adesso puzza Kaisa questo qua era Taite no Taite si Taite no Taise figa oh e poi il bello è quello di Sein l'ho pronunciato anche prima vai Taise lo so ma me lo sbaglio perché mi viene dal Tai ogni volta che vedo Tai mi viene dal Tai Taise 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 De Wa con l'organizzazione adesso dell'azienda Nakanaka eh sì ho visto che la gente si imbosca nei cespugli Nakana con la mappa l'ho vista bella comunque le mappe fanno cacare una peggiore dell'altra Shigoto lavoro oh Yasumo Yasumo e riposare Yasumo Koto Gadekinae dopo vedo se c'è sul sito giapponese se me lo fanno pagare 100 yen eh lo prendo se no niente Dekinai eh allora poi l'ultimo esercizio ti mappa del cazzo no Dani non dire le parolacce che sei eh come cazzo si chiama il moderatore non puoi dire le parolacce tu devi dare il buon esempio Kyoa no più che altro sei su youtube anche ti ricordo che su youtube mi chiudono il canale con lo Shigoto io sono io sono family friendly e tu sei family strong allora Shigoto Shigoto ni puntini puntini poi dobbiamo metterci la parola virgola goji goji cos'è ah no non l'avete fatto goji goji e sono goji made fino alle 5 goji made ni oa ra se oa ra se yo to mo oa ra se yo to o mo allora eh oggi questo lavoro ni eh fino alle 5 spero di pensiamo di finirlo pensavo fosse goji goji conosci goto ni made ni oa ra se yo to mo non c'è uo è maco no goji made ni oa ra se yo to mo c'è scritto così ni è maco c'è scritto ni bisogna vedere cos'è bisogna vedere cosa mettere eh dovrebbe essere shu se shte allora chi ho va conosci goto ni shu se shte goji made ni oa ra se yo to mo avere successo no ciu ciu ste ciu ciu impegnarsi c'è ragione ciu ciu ci impegneremo in questo fottuto lavoro e lo finiremo e penso di finirlo prima delle 5 gambare robo con 2 però maco non suggerire perché se non mi tocca venire su e spaccarti la faccia denwa denwa uo puntini puntini cureta ito cureta ito la persona che mi ha chiamato cureta ito ua o che ha risposto cureta ito ua shinshine shinshine no shinshine nyu sha in che significa un nuovo impiegato no yoda e questo qua sicuramente è la persona che ha risposto al telefono è un nuovo impiegato e verrà insultato perché chissà che cosa ha detto quello lì vediamo tori si tori zuide tori zuide oh tori zuide cureta eh eh lo so che è difficile ma cosa devo fare zuide allora de wao tori zuide cureta ito ua la persona che ha risposto al telefono era sembra che fosse un nuovo impiegato perché non l'ha non l'ha riconosciuto che lui era l'imperatore del giappone perché se non leccate il culo a tutti quelli che vi chiamano siete delle merdacce allora Yamada Sanwa il signore Yamada Yamada San il signore Yamada Sanwa Don Don che significa sempre di più Don 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 puntini in puntini Ima Ima De Ima De Wa Caccio Caccio che è capo o direttore o come cacchio volete voi Caccio Nina rimasta allora lui ha ha leccato il culo a tutti adesso è diventato capo vediamo allora ha avuto successo questo è Shuse 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 Allora Yamada Sanwa Don Don Shuse Shuse Ima De Wa Caccio Nina rimasta il signore Yamada ha avuto sempre più ha avuto successo sempre di più e adesso è diventato il capo o Yamada San ha leccato il culo fino adesso e adesso è diventato il capo Uchi Awase no Jikan o Uchi Awase Uchi Awase vi ricordo che è meeting per gli amici Uchi Awase o riunione Uchi Awase che le fanno c'è sempre una riunione in Giappone ogni mattina fanno una riunione per qualsiasi cosa tipo manca la carta igienica riunione Jikan cambiamo io metterei cambiamo vorrei cambiare l'orario della riunione va bene se cambiamo l'orario della riunione e sarai licenziato per aver chiesto questa cosa vi va bene se cambiamo l'orario della riunione licenziato si ci va bene ma tu non lavorerai più qui queste sono le ultime risposte dopodiché ci salutazza correggiamo gli esercizi non ho più la saliva oggi ci impegniamo al lavoro questo qua è quello di questo qua è quello di Atsumeru è quello di raggrupparsi ho detto come si chiama cos'è che ho detto prima Shuse è quello di avere successo scusate sì ma anche perché questo qua si pronuncia Shu anche che è quello di Isatsu Isatsu Shu che è quello del video che faccio io che sono le mosse speciali gruppo di mosse speciali praticamente raccolta di mosse speciali Shu vedete che quello l'ho pronunciato Shu non perché sono strozo negativo grande è negativo Ryuji eh non so avrà pagato 100 euro 120 KyoA che scemo sto scrivendo KyoA oggi KyoA conosci Goto questo lavoro qua l'ho pronunciato male perché ero in sto leggendo senza pensare io lo dico a Shikoto No Shikoto Ni abbiamo detto Shuchu Shuchu e quello lì è Naka che però si pronuncia Shu Shuchu Ste Goji alle 5 Goji Goji Made fino alle 5 Ni e poi luogo cioè luogo tempo Uara ah che brutto come l'ho scritto male Oara Se Nakia questo lo faccio sempre al contrario quindi così Oara se Oara se yo to omou allora mi impegno al lavoro e oggi mi impegno mi metto sotto al lavoro e e penso di finire per le 5 perché poi si va a trote Denwa cioè Denwa si Denwa Denwa telefono Ni Tori Tsui De Tori Tsui De Tsukuran Durugogo Tsukuretta Nito la persona che rispozza dal telefono sicuramente uno nuovo perché non mi anche riconosciuto lo dirà tutti e il giorno dopo questo qua verrà licenziato Shin New Shine che sembra una parola figa che però significa il neo come era? neonato neo arrivato neo qualcosa il nuovo impiegato noio data quello che mi ha risposto sarà stato uno nuovo non mi ha riconosciuto e poi va a piangere il giorno dopo quello lì gli tagliano le gambe Yamada San che in Giappone funziona così Don Don che imparatevi bene questi Don Don Nakanaka Zen Zen sono tutte le cose molto importanti Don Don è sempre di più Shusse lui ha avuto sempre più successo leccando il culo e adesso fa il capo Ima Ima De Wa e adesso è il capo Caccio 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 Nina rimaste ed è diventato il capo il capo delle persone con la lingua pelosa 4 Ucci no lingua pelosa è la gente che lecca il sedere agli altri e quindi gli rimangono i peli attaccati Ucci o a sé in quel senso spiego queste cose fantastiche a mia moglie che vabbè Jikan Jikan è tempo tempo o Enko è cambiamento e c'è sempre il mio kanji preferito che è quello di Enshin io poi mi trasformerò in Kamen Rider e andrò a fare quel lavoro in Giappone però finché non riesco a trasformarmi lo dovrò aspettare Moraitai noi ci eravamo andati a Bandai davanti a Bandai no? mi sembra di sì avevo fatto le foto con Kamen Rider chi non salta cinese è chi non salta cinese è chi non no seba sono su Youtube smettila subito cancella quella frase rimangia tutto quello che hai detto non si possono fare queste cose Dai Jobu Dai Jobu Dai O non è che ti dissoci hai risolto il problema sei stronzo e basta anzi come dice mia moglie sei su Toronzo con la U allora Uci Awaseno Gicano Enkoste Moraitai Indakedo Dai Jobu vi va bene se cambiamo l'orario della riunione la risposta è sì ci va bene ma sei licenziato ok correggiamo gli esercizi ah ah non è ah ti spacco la faccia ciao mister Giù ah sono hunting high in love oh bellissimo quella canzone vabbè andiamo avanti allora uno siamo alla lezione 14 non finiremo mai anche lui vedi va tutti felici con quelli emoticon lì della tipa con le tette enormi Marco vedi loro sono tutti iscritti a quella con le tette grosse ah capito Marco fai crescere quelle cacchio di tette subito adesso allora è già cresciuto sì di un millimetro allora 3 centimetri molto bene A B B A B A office B A non mi ricordo più A B no è B Mako è B ah no me U è B A B ok giusto comunque era office Kyuka Me Ue Yarukigaru è tanto poi C E B A C An E Tetsuya B Staff E Shori no ho sbagliato questo perché è sbagliato Mako no 4 aspetta un secondo C E B A Tetsuya Arada no Tetsuya è quello del grande Mazinga ve l'ho già detto non c'è un altro Tetsuya che non sia quello del grande Mazinga E D C A E Shuchu D Toritsuide C Shuse A Enko giusto tutto giusto bravo 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 bravissimo bravo a me stesso e grazie a tutti voi adesso vi mando da qualcuno vediamo se c'è qualcuno che sta facendo la live chi è che è in live c'è la drossa vi mando dalla drossa posso contarle come si contano gli animali no in che senso puoi chiederti una cosa per le persone posso contarle come si contano gli animali no perché stai dando dell'animale a una persona e si offende devi contare con i tori futari sanin eccetera eccetera ma non puoi cioè attento perché si offendono veramente se finisce ma era anche un motociclista sì sì no lo conosco ma il più importante è sempre tetsuya quello del grande mazinga che è nato molto prima di tetsuya rada quindi tutti gli altri tetsuya sono solo una copia un'imitazione vi mando dalla drossa salutatemela e niente buona giornata a tutti se riesco a scaricare il coso di code ve lo ci vediamo dopo cioè vi chi si chiama ciao aspettate che vi mando dalla drossa che ha le tette grosse così me la salutate ciao esegui un ride la drossa e chiedetegli se è blu anche lì sotto no scherzo non chiedetelo buona giornata a tutti bye bye ciao